Il campo basso Il campo basso aspetta la partita di Francavilla in una struttura ricettiva del centro abruzzese lontano da altre possibili precipitazioni che sul Molise potrebbero essere previste per le prossime ore, ma in maniera lieve. Bagatti ha il compito di tenere tutti sulla corda considerato che la squadra attendeva con ansia di tornare a giocare una partita Il gruppo russo-blu infatti aveva anche sacrificato ma in maniera assolutamente giustificata qualche ora di svago del primo giorno dell'anno pur di preparare a puntino la sfida contro la San Giustesse saltata per neve. Al gruppo si è unito anche il laterale basso-mancino Edoardo Calzola, 19enne perugino svincolato e con un recente passato anche con i canarini della Fermana. Il campo basso cercherà di riprendere da dove aveva terminato cioè dando continuità ad uno splendido mese di dicembre in cui la ciliegina sulla torta è stata senz'altro la vittoria sul campo dell'ex prima del girone Matelica. Dopo il turno di domenica che ha visto il riposo forzato delle molisane e delle rispettive avversarie la posizione in classifica di rosso-blu non è stata messa a repentaglio da nessuno certo due punti sulla zona play-out sono un bottino che probabilmente sarà meglio incrementare piuttosto che tenere la situazione in bilico fino alla fine. Lo stesso presidente Nicola Circelli intervenuto nel corso dell'ultima puntata di Domenica Sport non ha nascosto la volontà di tutta la dirigenza che l'obiettivo da una salvezza tranquilla possa tramutarsi il più in fretta possibile nel raggiungimento del quinto posto qualcosa che per inciso può anche apparire nelle corde dei giocatori rosso-blu a patto che si dia un certo seguito alla serie utile che è in corso da sei giornate a questa parte. Bagatti dovrà fare conti con l'assenza di Antonelli per squalifica e con le non perfette condizioni fisiche di La Barba a cui si è girata male la caviglia in allenamento. Quest'ultimo è a rischio per la sfida del Valle Anzuca il Francavilla di Rachini rivedrà nelle proprie fila l'attaccante Cosmo Palumbo e l'argentino Banegas. Questi ultimi assenti nella prima del 2019 a Pineto il Valle Anzuca non è stato mai violato quest'anno sei vittorie e tre pareggi interni per la formazione giallorossa Bagatti ed il suo campo basso proveranno ad essere i primi ad espugnare uno stadio ostico per tradizione. La società dell'Olimpia nionese è ancora alla ricerca di un campo utile per la disputa della partita di domenica contro il Cesena sembrava prendere corpo l'ipotesi Aragona di Vasto che però ha perso decisamente quota nelle ultime ore pare che ci sia stato un diniego da parte della società abruzzese unito al fatto che la gara in questione va comunque giocata entro i confini regionali. Rimangono quell'izza dei campi come quello di Sernia, di Trivento, di Campobasso il Lancelotta però è soggetto a lavori di rizzollatura da scartare anche l'ipotesi Isernia. Rimangono in piedi le piste Trivento che la società Granata preferirebbe e come detto anche Selvapiana. Il nodo va sciolto nel giro di poco ma qualora dovessero persistere le precipitazioni nevose al ridosso dell'incontro non può essere escluso un nuovo rinvio. L'Olimpia agnonese continua ad allenarsi a Roccaravindola una struttura libera dalla neve fra le più vicine ad Agnone. Gli spostamenti continui sicuramente non giovano troppo alla squadra di Foglia-Manzillo che diversamente non può fare. Il tecnico napoletano non potrà disporre per domenica del solo De Zai ormai infortunato di lunga data. Peic si rivedrà soltanto fra sette turni di campionato. Ancora nessuna novità circa il ricorso presentato avverso la maxisqualifica del centrocampista Granata. L'Isernia si allena all'Ancellotta. La squadra sta preparando la trasferta di Monte San Giusto. Anche per la San Giustese il 2019 si aprirà questo fine settimana. Mister Silva potrà contare anche i suoi nuovi arrivi Schena e Maresca. Siamo con Matteo Maresca. Un'altra pedina, una nuova pedina, un nuovo acquisto dell'Isernia dopo Schena. Maresca sposa il progetto dell'Isernia. Per quale motivo? In pratica ho ricevuto la chiamata del mister che soprattutto di nome già conoscevo e stimavo a livello tecnico. Adesso ho avuto anche il piacere di conoscere a livello umano e quindi ho voluto sposare il progetto proprio perché appunto me l'ha chiesto il mister e so che comunque parla di calcio e anche a livello umano è una grande persona. Un compito difficile perché c'è da salvare l'Isernia. Poi si è parlato molto spesso che a livello di gioco ci siamo quasi. Poi la qualità per andare a fare gol è quella che forse un po' manca e i nuovi acquisti servono appunto per questo. Sì sì ma di là dei nuovi acquisti io credo che è una cosa che si può fare si può raggiungere tranquillamente. Un obiettivo che si può raggiungere anche perché ho avuto il piacere di vedere che è un bel gruppo, un grande gruppo e soprattutto queste categorie ho visto che questi obiettivi si raggiungono soprattutto con la forza del gruppo e qui non manca sicuramente. Poteva essere molto più stimolante come diceva anche mister Silva tornare subito in campo perché c'è stata la sosta un po' più lunga per via della neve. Sì certo però purtroppo qua ha nevicato, sembra che sta smettendo. Io il primo possibile cerco di mettermi a disposizione al 100% e poi il mister quando deciderà di schierarmi mi farò trovare al miglior modo possibile. Conosci questo girone? Sì questo girone l'ho fatto con la Civitanovese e lo conosco, ci sono squadre molto forti però credo che siamo alla portata di tutti e ci possiamo giocare ogni partita. Basket femminile di Serie A2, sabato al Palavazzieri ultima gara del girone d'andata la molisana Campobasso ospiterà all'Orvieto per riscattare il primo K-O stagionale contro Umbertide. Calcio a 5 di Serie B lo scorso fine settimana è terminato il girone d'andata la Chaminade ha aggiunto 19 punti in classifica in 11 giornate. Nel prossimo fine settimana il calendario ha programmato la seconda trasferta consecutiva infatti la Chaminade sarà ospite del Cus Ancona. Federico Di Camillo hai esordito con la Chaminade nella partita contro l'Eta Beta primo pareggio stagionale della squadra come è andata? No tutto bene pure dal punto di vista personale una prestazione penso positiva è stata appunto la mia prima partita quindi ero un po' teso però tutto sommato è andato bene. Segui naturalmente la Chaminade anche se c'è stato adesso il tuo primo esordio come sta andando questo campionato? No tutto bene è un buon organico e penso che si può puntare in alto questa stagione anche a fare il salto di categoria. Tante squadre importanti il prossimo turno vi vedrà in campo con il Cus Ancona seconda trasferta consecutiva una grande squadra che è nelle zone alte della classifica. Sì infatti ha battuto la prima classificata però se giochiamo come sappiamo giocare penso possa andare molto bene. Un'ultima considerazione vogliamo fare un applauso al pubblico che vi segue sempre numeroso soprattutto qui in casa. Sì infatti sono sempre molto numerosi e incitano sempre la squadra e un grande applauso. Nuoto è già partita la macchina organizzativa dell'M2 in vista della non edizione del meeting nazionale di Nuoto Trofeo M2 in programma l'ultimo weekend di febbraio due le special guest dell'edizione 2019 Gregorio Paltriniere campione olimpico e mondiale in carica dei 1.500 stile libero distanza in cui detiene anche il record europeo in vasca lunga e il record mondiale in vasca corta Gabriele Detti campione mondiale in carica degli 800 stile libero medaglia di bronzo nei 400 stile e nei 1.500 stile ai giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 Calcio d'eccellenza il vasto Girardi si sta allenando a Fornelli il tecnico Farina ai nostri microfoni Mister Farina, una sosta natalizia più lunga del solito per via della perturbazione nevosa che ha portato allo slittamento della prima di ritorno è cambiato qualcosa per il vasto Girardi? Sì, sicuramente noi eravamo pronti per giocare la settimana scorsa però quando è per tutto è mezza festa si dice da noi quindi va bene così dobbiamo soltanto cercare di continuare come avevamo sospeso come quando si è sospeso il campionato e dobbiamo cercare di allenarci bene con una buona intensità Dovevate affrontare la Leaf un avversario sulla carta abbastanza facile però poi se non si affronta la partita con le dovute precauzioni non si prende l'avversario con le pinze infatti lei ci aveva dichiarato che non si fidava di questo avversario Non fidarmi proprio no la Leaf è una squadra che comunque ha una marea di problemi mi fa piacere che stanno cercando di portare a termine il campionato in tutti i modi che una loro rinuncia avrebbe falsato il campionato noi le rispettiamo come rispettiamo tutti però sicuramente bisogna puntare molto su di noi sul crescere proprio come squadra anche perché se le cose vanno come devono andare il verso girare può essere che fra 3-4 mesi si potrebbe trovare in categoria superiore e allora i ragazzi devono dimostrare di meritare la categoria superiore allenandosi bene Lei aveva detto 24-25 vittorie ne sono arrivate 14 quindi siete più a metà dell'opera sempre quello per quanto aveva detto lei secondo me la media si è abbassata molto di solito il campionato molisano si vince con 78 punti penso che questo qua si potrà vincere pure con 70 punti perché i distacchi sono un po' grossi però il nostro obiettivo non è soltanto quello di vincere il campionato noi migliorare i giovani che abbiamo migliorare gli atleti che hanno giocato spesso sono secondo me troppo spesso in eccellenza ma secondo me hanno potenzialità per giocare in D e cercare di preparare la squadra a fare un campionato competitivo nel giro di ritorno poi tutto quello che verrà ce lo prenderemo però la cosa importante è che noi posso dire che non rinunceremo mai a giocare e non rinunceremo mai ad allenarci bene perché poi fa parte della nostra indole quindi c'è da migliorarsi allenamento dopo allenamento anche perché secondo me la squadra fino a adesso si spessa al 60-70% In promozione il Trivento aprirà il girone di ritorno con la trasferta di Chieuti Massimiliano Berardini questo weekend si ritorna in campo si apre il girone di ritorno possiamo dire comunque con tante difficoltà la neve ha fatto saltare la gara insomma dello scorso fine settimana però vi sta impedendo anche di allenarvi con continuità Sì, hai detto bene assolutamente noi ci auspichiamo insomma la speranza è quella che soprattutto il clima sia clemente in questa settimana per permetterci di appunto di riprendere quello che è il campionato e la partita che ci vede impegnati a Chieuti con i quattro torri per cui ci auspichiamo appunto di poter giocare dopo tanto tempo di stop e le difficoltà appunto logistiche che ci sono state in questi giorni che appunto non ci hanno permesso di prepararci o di continuare quella che era iniziata la preparazione fisica per appunto farci trovare pronti al meglio per questa partita Si apre il girone di ritorno si aprono queste gare insomma che vi serviranno per raggiungere l'obiettivo che si chiama salvezza per il Trivento Sì, diciamo l'obiettivo sempre paventato dall'inizio anche se qualcuno ha detto ai lavori insomma pensava che potessimo ambire alla vittoria del campionato questo non è assolutamente vero ci tengo a precisarlo diciamo l'obiettivo primario è quello della salvezza stiamo lavorando in questo senso abbiamo perso delle pedine importanti inutile nasconderlo come la partenza appunto di Cuglielmi Carmine che per noi comunque era un giocatore fondamentale e di spessore però ci siamo rimboccati insomma le maniche e siamo andati a vincere insomma le ultime due di campionato che appunto ci hanno rimesso in una zona tutto sommato tranquilla noi appunto lavoriamo per salvarci il prima possibile e perché no magari toglierci qualche sassolino in maniera tranquilla poi per il proseguo del campionato è pur vero però che con questo mercato invernale non ci sono stati grandi stravolgimenti in tutte le squadre che fanno parte della promozione Sì, diciamo da quello che appunto ho potuto leggere sui giornali non sia noi stessi che insomma la maggior parte delle squadre del nostro girone non è che si siano rinforzate più di tanto però noi guardiamo in casa nostra sapevamo che avevamo insomma nelle ultime 6 o 7 partite parecchi infortunati da smaltire cioè comunque da far rientrare nel rosa questo stop e queste feste ci hanno permesso appunto di recuperarli e quindi tutto sommato abbiamo una rosa secondo me competitiva per poter ambire a quello che è il nostro obiettivo Puntare anche i playoff eventualmente vero? Ma guarda io penso dentro di noi ognuno c'è il piccolo tra virgolette sogno di raggiungerli prima di tutto però dobbiamo pensare proprio per il discorso che ti facevo poco prima di aver perso qualche pedina importante dobbiamo pensare di essere una squadra operaia per poi insomma permetterci di pensare a qualcosa di più grande Calcio femminile le ragazze dell'Adriatica Campomarino prenderanno parte ai prossimi campionati Under 15 femminili esordio previsto esordio previsto mercoledì prossimo a Chieti mentre sabato 19 gennaio ospiteranno il Pescara Calcio Calcio giovanile nel torneo dell'Epifania in campo gli allievi del Pescara la società di Serie B e quella dei Santi Pietro e Palo hanno in atto una collaborazione Antonio Battista, Antonio Lanagrafe in maniera così simpatica responsabile settore giovanile settore scouting del Pescara bel torneo questo a Termoli Pescara che si è imposto anche con un piglio in più soprattutto perché ha giocato con i ragazzi più piccoli di un anno sì diciamo che hanno fatto per noi è stato un buon allenamento come penso anche per gli altri il carattere era chiaramente amichevole si sono espressi bene dopo le vacanze chiaramente non puoi aspettarti di avere ritmi importanti è stato sicuramente un test che ci dà delle utili indicazioni per la ripresa del campionato voi avete stipulato un accordo di amicizia legato al San Pietro oramai da anni riuscite anche ad attingere qualche volta a sette regioni al San Pietro questa è stata l'occasione, questo torneo per riprendere i ritmi dopo la pausa natalizia soprattutto in virtù di un campionato che è quello che conta di più per voi a livello professionistico Sì sì, io tra l'altro non conoscevo il gruppo 2002 della San Pietro e Paolo chiaramente ha confermato poi anche parlando con i dirigenti che hanno un buon gruppo infatti la prima posizione in classifica dimostra la bontà di questo gruppo Questo Pescara invece voi ovviamente state con la massima categoria in Serie B puntate ovviamente a fare un ottimo campionato magari a tornare anche in Serie A però il Pescara cura tantissimo il settore giovanile crede nei ragazzi che ha nel vivaio? Sì, sicuramente l'artefice di tutto ciò è il nostro presidente che crede nei giovani basti pensare che negli ultimi anni tanti ragazzi del settore giovanile sono approdati in prima squadra chiaramente non tutti poi riescono ad affermarsi nei professionisti però diversi sono approdati in società di più blasonate noi siamo felici di questo la speranza è di continuare a lavorare in questa direzione Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio